Torniamo a parlare della situazione sul torrente Parmignola, questa mattina un sopralluogo per fare il punto della situazione, qual è il bilancio? Mi sembra un bilancio positivo perché oggi la Regione, l'assessore Gianpedrone e l'ingegner Boni hanno riconosciuto l'impegno dell'amministrazione del territorio, dell'amministrazione di Salzana sul dare seguito a quelli che sono i progetti e cercare di arrivare a conclusione, si è distinto sugli interventi, c'è stata una posizione positiva a mio parere su tutti e due sia sul tratto focivo dove il Comune di Salzana ha esplettato tutte quelle sono le procedure dal punto di vista di pianificazione e di progettazione e quindi si sta attendendo l'autorità di Baccino che dia il via libera al primo stralcio del progetto definitivo, quindi si potrà intervenire in accordo anche col Comune di Carare con tutti gli enti interessati sulla tratto focivo del Parmignola e dall'altra parte l'argine è crollato, mi sembra che anche su quello la Regione abbia riconosciuto il lavoro importante che sta facendo nell'ultimo, da quando è crollato nell'ultimo anno l'amministrazione salzanese, quindi l'assessore Baudone e il sindaco Cavara cercando anche fin da subito con uno studio che è avviato nel 2013 di dimostrare quello che sono stati, cercare di indagare su quelli che sono stati gli errori nella progettazione precedente per poter quindi arrivare a ottenere un rifinanziamento dell'opera che metta davvero in sicurezza il Parmignola. Sopralluogo della Regione, facciamo un bilancio di questo sopralluogo? Sì, facciamo il bilancio di questo sopralluogo ma prima non dimentichiamoci che la questione Parmignola l'abbiamo portata alle cronache locali come Movimento 5 Stelle proprio il 12 settembre scorso quando abbiamo fatto un sopralluogo assieme a tutti i gruppi locali per andare a verificare la situazione. Oggi è proprio il compleanno dell'argine crollato e oggi sia con l'assessore competente, l'assessore regionale competente che con tutte le autorità locali siamo ritornati sul tratto del torrente interessato e assieme anche ai tecnici della Regione ci siamo potuti rendere conto di che cosa sta avvenendo. Il tecnico della Regione ha detto chiaramente adesso il Comune di Sarzana sta lavorando per affrontare l'emergenza. Bene, noi abbiamo voluto puntualizzare e chiedere al tecnico ma questo adesso come ce lo quantifica? Cioè qual è l'adesso? Adesso una questione di mesi? Adesso in questo momento? o è un anno? E ha detto no, no, adesso. Ricordiamoci che l'argine è crollato un anno fa, quell'argine è crollato un anno fa e quella situazione è critica, ce l'abbiamo da un anno, quindi oggi siamo già un anno indietro e non potranno partire i lavori in nessun modo per la messa in sicurezza di quel tratto almeno fino alla primavera prossima.